Da oggi e fino a giovedì 12 maggio, Piazza del Plebiscito ospita la sesta edizione della giornata nazionale della previdenza e del lavoro. Tre giornate dedicate ai temi della pensione, del lavoro e della salute, aperte a tutti i cittadini che desiderano saperne di più e che potranno ricevere gratuitamente risposte e consulenze da esperti del settore. Io credo che sia particolarmente significativo che siano messe insieme previdenza e lavoro perché ormai il lavoro finanzia la previdenza in modo sempre più affannoso. Abbiamo pochi giovani che contribuiscono alle pensioni di oggi e quindi rimettere in moto il mercato del lavoro soprattutto a partire dai giovani è fondamentale. Organizzata da itinerari previdenziali, la manifestazione vuole sensibilizzare le famiglie e in particolare i giovani sulla necessità di progettare il proprio futuro pensionistico e previdenziale. Nel villaggio ci sono gli stand dei principali enti di previdenza di base integrativa e di assistenza sanitaria. È previsto inoltre un fitto calendario di convegni workshop per approfondire e rendere questi argomenti accessibili al pubblico. Venire qui, farsi una consapevolezza di quello che sarà il suo futuro previdenziale ma soprattutto cercare di mettersi in moto, di attivarsi appunto secondo il nuovo paradigma delle politiche attive per un nuovo lavoro. Attenzione è dedicata anche alla salute con uno sportello di prima consulenza gratuita sulla corretta alimentazione. In programma incontri con le scuole e spazio alle start-up, al welfare aziendale e alla ricerca di lavoro in Italia e all'estero.